La storia di Amisei è una testimonianza di coraggio e determinazione in una lotta contro una grave cardiopatia genetica. Amisei, una bambina di 6 anni di origine straniera, è nata con un'anomalia cardiaca molto rara. Il suo cuore batteva a destra, che comportava una diversa circolazione sanguigna. Tuttavia, grazie all'eccezionale lavoro dell'ospedale del cuore della Fondazione Monastero a Massa Carrara, Amisei ha finalmente trovato una soluzione per la sua malattia. Un team multidisciplinare ha studiato attentamente il cuore della piccola utilizzando un modello tridimensionale, preparando così il terreno per l'intervento risolutivo. L'artefice di questa straordinaria operazione è stato il dottor Vitali Pa, esperto in cardiochirurgia pediatrica e cardiopatie congenite negli adulti. Dopo 20 giorni dall'intervento, Amisei è stata dimessa dall'ospedale. La bambina sta bene ed è tornata alla sua vita, normale riunendosi con i suoi genitori e la sorellina gemella Aila. È importante notare che Amisei aveva già subito due interventi chirurgici precedenti, uno nel 2017 a Berlino, per la riparazione della valvola atrioventricolare e un altro l'anno successivo per un problema alla valvola tricuspide. Tuttavia entrambi questi interventi non avevano risolto completamente il suo problema cardiaco. È solo grazie all'approccio innovativo dell'ospedale del cuore della fondazione Monastero che Amisei ha finalmente ottenuto l'intervento risolutivo tanto atteso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti